In questo nuovo video sono RaftiGamer e oggi siamo qui in questo nuovo video ovviamente su Apex perché su Fortnite sta a fare l'aggiornamento, c'è se ti parla Allora ragazzi siamo in questa live ma giusto per 10 minuti e giociamo Apex perché dobbiamo andare poi dopo su Fortnite a vedere le nuove cose che hanno messo A provare la modalità, la modalità quella della lava Ciao si è il moderatore Ti dico se esce in blu significa che sei il moderatore, invece se esce in normale Ragazzo che stiamo giocando a questo gioco di cacca perché Se non mi sbaglio dovevi premere due analogie E' pure, è pure GG Mi passi jump Un amico Bro città no, città dell'elettrica no Massimo mercato perché Uh dei cavalli in mezzo al mare, bello Ma dove mica vuole andare, a basera Oh smettilo di seguire, andiamocene Andiamocene tipo Bunker Io ce l'ho trovato Non mi ha dato niente che schifo Non mi ha dato niente che schifo io ce l'ho trovato ah no perchè siamo ancora a tanta vita ha la stessa pistola praticamente no perchè abbiamo un po' di giallo se mi sale da maio ma fa cagare sto fucile vabbè si a terra uccisione no no assist allora penso io perchè mi piace fucile mi piace un casino per un po' mi piace un po' di giallo ho bisogno divenza ho bisogno divenza hai colpito pistola hai colpito bomba e pistola domi domi è regalo a farci uscire la parte non so domenica domi ma si uscire la parte così non mi è uscito da solo dal porti ma io dobbiamo andare a polenzia che fa quando parte scrivetevi il suo consigliere è buono ragionamento a quanto sta notifica a se che sta facendo così tardi che ne stiamo giocando un gioco dopo dobbiamo dopo non dobbiamo giocare ma dove se mi hai vinto sinceramente io ho due partite ho vinto ma capirò ho camperato fino alla morte ho camperato però la bella cosa di questo gioco che in prima persona ea quando corri è bellissimo io ho questi parkour che ti posso fare sulle cose scaliamo scaliamo sui due da fandango ebbene per me il pompa più forte è leva 8 ah ma tu a battere anzi stai giocando manco io no la tre c'era passata la tipolazione c4 salutando ah l1 apr1 l'attacco per me però per me la città più bella è cascata in questo gioco l'attacco ulem block forte quest'arma si o scultano centrale idroelettrica e di abruzzo ora oppure devo queste casette ci fiume ah che belle sono pure belle tolgo queste mi prendo il kit medico poi tolgo lo scusante tempesta che non serve le munizioni leggere che non servono tanto olio no no hai pompa noi lasciamo questi pompa dammeli si fa option e poi a casa sono leggeri quindi mi vado a prendere mi vado a prendere 80 leggeri che ho lasciato qua sotto ai leggeri si mi servono ai leggeri no perché ne avevo buttati 80 no perché ne vado a prendere 80 no ma ninja non gioca più a box Genta se non mi sbaglio Sì, sì, genta 12 da scudo Sì, se c'è i pubblicati, non so, non so, manca chi è Sacco, gai E' uno Oh, ci sa uno Ma in quanti ne sono? Oh, ci sa uno vedo ma dopo ho messo due versione one mi accorgo questo due persone togliamo il giusto gioco ragazzi non giocheremo per quasi mezz'ora non giocheremo